Tre giorni per riunirsi, per pregare come voleva padre Pio, ma soprattutto per confrontarsi su tematiche importanti che non attengono soltanto alla spiritualità. Il senso del 24esimo convegno nazionale dei gruppi di preghiera di San Pio da Pietrelcina è proprio questo. A San Giovanni Rotondo, nell'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, i lavori sono stati aperti da Monsignor Michele Castoro, arcivesco di Manfredonia Vieste e San Giovanni Rotondo, presidente della Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, nonché direttore generale dei gruppi di preghiera. Tema principale della prima giornata di incontri, che ha visto Pellegrini di tutta Italia, è stato l'impegno sociale dei cattolici nelle questioni bioetiche di inizio e fine vita. Si è parlato di eutanasia, accanimento terapeutico, del caso Inglaro e della posizione della Chiesa e soprattutto dei medici cattolici. Al termine del dibattito, la concelebrazione eucaristica nella Chiesa di San Pio, presieduta proprio da Monsignor Castoro e il Santo Rosario presso le spoglie mortali di San Pio. Domattina, concelebrazione eucaristica presieduta da padre Francesco Colacelli e successivamente presentazione del progetto di riorganizzazione funzionale dell'ospedale. Ci sarà spazio anche per dibattiti sull'impegno dei coniugi nel cattolicesimo e per una disamina dei gruppi di preghiera di padre Pio fra passato e futuro.